Aperto lunedì il cantiere per la sostituzione del viadotto sul rio Migiana, ad Andosso, lungo la strada provinciale che porta all'Alpe Lusentino. L'infrastruttura viaria versava in condizioni critiche, ne era già stato limitato il carico veicolare ma la necessità era quella di intervenire in maniera strutturale e definitiva. Questa urgenza comportava una decisione forte come la demolizione totale e la conseguente ricostruzione del viadotto. Grazie a tutti.